ospedale di pesaro smontate le tende simbolo dell'emergenza covid intervento dei carabinieri forestali a ponte valle trovate occupazioni abusive incontro tra comune e bagnini nuovi fondi per le spiagge continua il sodalizio tra onlus gulliver e istituto alberghiero donati computer a tre studenti venerdì 28 maggio buona serata benvenuti al nostro telegiornale in apertura parliamo degli aggiornamenti sanitari che arrivano direttamente dall'ospedale di pesaro dove ieri sono state finalmente smontate le tende che in tutti questi mesi hanno accolto i pazienti covid positivi in assenza appunto di spazi interni alla struttura ospedaliera segnale che la curva dei contagi sta confermando il trend in calo come sentiamo in questo primo servizio sono state il simbolo della lotta contro il covid anche per l'ospedale di pesaro hanno ospitato tanti pazienti nel corso dei mesi più duri e impegnativi dell'emergenza e ieri dopo 14 mesi le tende allestite all'esterno di marche nord sono state smontate segnale importante di giornate settimane che vedono diminuire ricoveri ingressi nei diversi reparti pesaresi dedicati al virus e che allo stesso tempo però ricorda il direttore sanitario di marche nord eduardo berselli non deve far abbassare la guardia e l'osservanza delle misure di sicurezza indicate per prevenire il contagio è un bellissimo segnale anche psicologico perché eliminare le tende le tende sono state utilissime ma sono state anche un simbolo della dell'emergenza covid togliere le tende ieri è stato un momento quasi commovente simbolico ci siamo stati lì con l'infermiere pronto soccorso e smontare ci ha dato soddisfazione e sollievo speriamo di non doverle ma più rimontare la situazione per fortuna rispecchia un po quella che è la situazione nazionale quindi sono in diminuzione i ricoveri per covid stiamo ripotenziando al massimo delle possibilità la chirurgia stiamo recuperando tutte le prestazioni che sono state un pochettino rallentate dovendo dare la priorità al covid noi abbiamo dei percorsi separati anche fisicamente per gestire i malati covid rispetto ai malati non covid questo vuol dire che abbiamo un'intera palazzina con quattro reparti di leggenza che sono destinati esclusivamente al covid in questo momento in questa palazzina abbiamo dei letti di terapia intensiva dei quali 13 sono ancora occupati da pazienti covid e dei letti di semi intensiva nei quali 22 sono ancora occupati da pazienti covid due reparti in questo momento non sono utili utilizzati ma ne approfittiamo per fare delle migliorie degli interventi tecnici e al pronto soccorso ancora mediamente almeno una decina di pazienti sospetti covid ogni giorno arrivano le fasce di età più avanti sono state quelle vaccinate per prima e queste sono quelle che meno sono colpite per cui adesso si è abbassata l'età media sono per fortuna diminuiti sia i progressi aumentano i guariti per cui i segnali sono positivi sarebbe folle abbassare la guardia perché noi in qualsiasi momento per integrare le strutture e le risorse voglio essere ottimista però andando finalmente un pochettino meglio sul fronte vaccinazioni secondo i dati forniti dalla fondazione gimbe la platea di marchigiani che ha ricevuto la prima somministrazione è superiore al 36 per cento mentre il 19,7 per cento della popolazione regionale ha già completato il ciclo vaccinale l'assessore alla sanità filippo saltamartini ha inoltre annunciato che se il piano di consegne programmato a livello nazionale verrà rispettato nel mese di giugno le marche raggiungeranno il milione di prime dosi inoculate carenze invece sul fronte prenotazioni per la fascia d'età degli over 40 nonostante parte di questi sia già stata immunizzata rientrando in altre categorie già sottoposte alla vaccinazione continuiamo a parlare di aggiornamenti sanitari e quindi andiamo a raccontare quello che ha comunicato il servizio sanità della regione marche nelle ultime 24 ore sono stati testati infatti 3.324 tamponi 1686 nel percorso nuove diagnosi e 1.638 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 103 con 45 casi registrati nella provincia pesarese nella serata di ieri il servizio sanità ha inoltre notificato un nuovo decesso in primo piano anche la cronaca con l'intervento dei militari appartenenti alla stazione carabinieri forestali di pesaro che hanno condotto un sopralluogo lungo le sponde delle torrente genica in località ponte valle i militari hanno rilevato molteplici occupazioni abusive del demanio fluviale da parte di alcuni proprietari delle limitrofe abitazioni che con strutture mobili e non hanno invaso spazi non di loro proprietà i militari hanno riscontrato la presenza di accumuli di rifiuti recinzioni piccoli depositi di attrezzi orti pollai e addirittura un canile a due piani in caso di forti situazioni meteorologiche avverse la presenza di questi manufatti impedirebbe il normale deflusso delle acque al punto da innescare fenomeni di rottura degli argini o allagamenti mettendo in pericolo la cittadinanza ultimati i sopralluoghi carabinieri forestali procederanno dunque con le sanzioni per le condotte illecite che prevedono pene fino a due anni di reclusione. Si è svolto ieri l'incontro tra le rappresentanze dell'amministrazione comunale e quelle dei bagnini in seguito alle problematiche sollevate dagli albergatori che durante l'ultima riunione hanno evidenziato i pochi ombrelloni riservati alle strutture ricettive in città. Uno stanziamento di oltre 40 mila euro per concedere altri metri alle spiagge del litorale e permettere ai gestori degli stabilimenti balneari di installare più ombrelloni da poter destinare alle strutture ricettive della città. Si è concluso con questo intervento da parte dell'amministrazione comunale l'incontro intercorso tra il vice sindaco Daniele Vimini, l'assessore all'operatività Enzo Belloni e gli operatori balneari in seguito alle problematiche emerse nell'ultima riunione degli albergatori durante la quale è stato evidenziato il basso numero di postazioni concesse dalle spiagge agli hotel. Mai come in quest'ultimo periodo siamo stati investiti sulla costa, abbiamo fatto ripascimenti per 780 mila euro, rifoltimenti delle scogliere sotto monte per 780 mila euro, sui ripascimenti sono stati investiti in prima battuta sul primo progetto 127 mila euro e raccogliendo quelle che sono state le istanze di albergatori e di bagnini. Abbiamo ulteriormente incrementato la cifra di ulteriori 40 mila euro, questo per dare la possibilità di allungare la spiaggia e quindi di mettere più ombrelloni e metterli a disposizione degli operatori turistici. Abbiamo avuto da parte dei balneari grande disponibilità a raccogliere quelle che erano le istanze nostre degli albergatori, quindi siamo soddisfatti dell'incontro che abbiamo avuto e ci siamo lasciati anche con l'impegno di condividere insieme una strategia da presentare alla Regione, che vorrei ricordare, la Regione è l'ente che ha la competenza sulla costa. Nel corso dell'ultima riunione, gli albergatori avevano manifestato malumori anche per il ritorno dell'isola pedonale in Viale Trieste, progetto ampiamente riconfermato dall'amministrazione comunale che a breve inizierà i lavori per poterli attivare dal prossimo 11 giugno. Abbiamo deciso di iniziare da lunedì 7, i lavori consisteranno nella colorazione della pavimentazione mantenendo il pentagramma, sono previste 24 panchine lunghe, oltre 55-56 fioriere, non ricordo esattamente, tra grandi e piccole, ci saranno 10 gazebo in legno con la copertura sullo stile balneare, diciamo colorata, verranno riportate le famose lampade che avevamo messo in centro quest'estate, la volontà dell'amministrazione è quella di avviare un progetto di riqualificazione strutturale del viale che ci vorrà portare ad avere un viale nuovo realizzato ovviamente a step dove in inverno potrà essere carrabile e in estate mantenere l'idea della pedonalizzazione grazie al fatto che abbiamo anche acquistato il parcheggio di Villa Marina e già dai prossimi giorni lo renderemo fruibile e gratuito ai cittadini. Inoltre si implementa la mobilità all'interno della zona pedonale e attraverso le navette del trenino, abbiamo allungato alle 11 il permesso di carico e scarico per le attività commerciali e la possibilità di passare nell'arco delle 24 ore ai taxisti quindi per risolvere le esigenze e le richieste che arrivavano dagli albergatori. Penso che quando esci dall'albergo, specialmente turisti con famiglie, con bambini, sanno che non passano macchine, non passano nessuno, è un valore aggiunto, sicuramente non è un'azione che penalizza gli alberghi. Il parcheggio dell'alberghiero invece abbiamo raggiunto l'accordo con la provincia e con la scuola di anticipare anche di un paio di settimane l'apertura, quello diventa strategico dal punto di vista della viabilità soprattutto sul lato sud di Viale Trieste e quindi su quello ci lavoriamo. Continuano i progetti di collaborazione che vedono unire il lavoro della Ollus Gulliver a quello degli studenti dell'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Nello specifico l'associazione ha rimesso a nuovo tre computer precedentemente utilizzati dalla scuola e che ora, dopo essere stati completamente rinnovati, sono stati donati a tre studenti dell'Istituto. Un mese fa abbiamo avuto una donazione da parte dell'Istituto Alberghiero e oggi abbiamo consegnato tre computer ricondizionati di dieci che saranno forniti alle famiglie della scuola. È un nuovo progetto che sta funzionando e quindi invitiamo altre scuole, istituti, studi professionali, anche privati che abbiano computer ancora funzionanti ma un po' vecchiotti, monitor, stampanti, di portare la Gulliver via Toscana 111. I nostri volontari, bravissimi ragazzi, giovanissimi, esperti di computer, ricondizionando questi computer e mettendo un po' a disposizione delle famiglie con qualche difficoltà. Computer compresi di stampante, monitor, webcam e tastiera. Un'idea lanciata dal preside Franca, una bellissima idea che sta funzionando e quindi utilissima in città e di cui siamo contentissimi come un progetto. Già alcuni studenti nel pomeriggio vengono a fare i volontari alla Gulliver e poi la novità è che i studenti che hanno un piccolo problema durante l'anno disciplinare o altro, in collaborazione con la Breva, verranno alla Gulliver e saranno impiegati come volontari in attività nella città, quindi pulizia dei parchi, tutta attività che facciamo giornalmente come Gulliver. Un sodalizio con la scuola che continuerà anche nei prossimi mesi? Sì, nuovi progetti anche con i ragazzi con disabilità nella scuola. Il Berghiero è una scuola stupenda che sta crescendo, una scuola che forma oltre il Sala Bar, ma forma anche i nuovi dirigenti che potranno essere anche dirigenti della Gulliver, quindi siamo contenti, i ragazzi sono tanti che vengono da noi e quindi stiamo crescendo insieme. Un mesetto fa abbiamo fornito l'Onlus Gulliver di computer obsoleti che avevamo e quindi funzionanti in parte o comunque con cose un po' da sistemare e loro in brovissimo tempo l'hanno rigenerati tre, ma ce ne sono altri in cantiere e quindi noi già stamattina ne abbiamo donati a tre studenti della nostra scuola. Quindi questo ci fa enormemente piacere perché abbiamo visto già i frutti del nostro sodalizio che abbiamo con la Gulliver. Devo dire anche un'altra cosa perché di cose con la Gulliver ce ne sono altre, diciamo che era stata lanciata anche in quell'occasione del defibrillatore e anche una collaborazione per gli studenti un pochettino più irrequieti, dico io. Le cose belle sono due, uno che stanno calando in casi difficili di sospensione o altro, ma due che invece aumentano i casi di collaborazione con volontari e di volontariato perché i ragazzi magari vengono a conoscenza di questo mondo così e dicono vabbè perché non possiamo dedicarci anche a fare queste cose che è il massimo. Noi siamo una scuola capofila nella provincia come scuola green, una scuola praticamente scuole green che tra le altre cose seguono l'agenda 2030, ma anche tutto il discorso del computer ricondizionato è importante anche da quel punto di vista, uno sviluppo sostenibile, quindi evitare gli sprechi è un primo passo e quindi anche riutilizzare tutto questo, ecco è una cultura importante adesso, siamo abituati adesso se una cosa non funziona la buttiamo via o altro, ecco forse per avere un mondo migliore, sostenibile, anche questo è importante, salvaguardare l'ambiente. Il nuovo prefetto di Pesaro e Urbino, Tommaso Ricciardi, accompagnato dal capo di gabinetto Antonio Angeloni, è stato ricevuto in provincia dal presidente Giuseppe Paolini. Alla presenza del segretario generale dell'ente Michele Cancellieri e del direttore generale Marco Domenicucci. Il presidente ha rivolto al prefetto il benvenuto a nome dell'intera comunità provinciale, formulando gli auguri di buon lavoro e ricordando le eccellenze di cui è ricco il nostro territorio. Si è rinnovato il 24 aprile scorso in sede di assemblea annuale il consiglio direttivo di Avis Comunale di Pesaro, che si è poi riunito e insediato ufficialmente venerdì 21 maggio presso il parco Miralfiore. Soddisfazione espressa dalla presidente Lina Rocca, la quale ha affermato di essere felice per la composizione del nuovo consiglio che mescola figure e personalità del passato insieme a nuovi ingressi e generazioni. Ed ora una comunicazione di servizio infatti verrà riaperta domani sabato 29 maggio la strada provinciale 112 Carpegna-Sansisto, rimasta chiusa dal 7 ottobre 2014, in seguito ad un vasto movimento franoso che è stato consolidato con un importante intervento da parte dell'esercito, avendo la frana oltre alla strada interessato anche un ampio versante appartenente al demanio militare. Torniamo a parlare di scuola, si è svolto infatti questa mattina all'istituto agrario Cecchi di Pesaro l'incontro tra il distretto biologico Terre Marchigiane e alcuni istituti superiori tecnici agrari, professionali e alberghieri del territorio. Alla base dell'incontro la presentazione di idee e proposte per collaborazioni future. Vediamo. Vogliamo iniziare un percorso di confronto per una progettualità ovviamente a breve termine, visto appunto che abbiamo anche dato manifestazione di interesse a questo distretto unico regionale che è un progetto molto ambizioso, vogliamo essere costruttivi per fare veramente della regione Marche, la regione biologica più grande d'Europa. L'istituto Cecchi ci ha ospitati, però abbiamo anche la presenza, la partecipazione di tutti gli altri istituti alberghieri e agrari della provincia di Pesaro Urbino. Siamo molto orgogliosi di essere qui, a parte che il posto è stupendo, non mi aspettavo che questo istituto agrario avesse così tanti ettari di terra, perché mi diceva la dirigente scolastica che gestiscono all'incirca 50 ettari di terra, anche il seminativo, quindi diciamo che siamo veramente fieri ed orgogliosi di averli come associati nel nostro distretto perché possono essere veramente costruttivi per il distretto biologico terre marchigiane che ha aderito, ha dato manifestazione di interesse al progetto di distretto unico regionale, quindi del biologico. Quindi confidiamo che appunto nello sviluppo e nell'istruzione, nella cultura anche del lavoro che stanno facendo questi istituti. Sono qui appunto presenti anche gli istituti alberghieri perché come l'agricoltura ha bisogno del terzo settore per chiudere la filiera, quindi per seguire quella che è la strategia del Farm to Fork, del Green New Deal dell'Europa, così appunto stiamo cercando di creare unione, di fare rete con il mondo scolastico affinché gli istituti agrari siano collegati, dialoghi in maniera aperta non solo con gli agricoltori ma anche con gli istituti alberghieri e al contempo con la parte diciamo del settore terziario. È una grande occasione, quindi la scuola grazie a questa collaborazione con Terra Bio riesce a inserirsi sul territorio e far comprendere agli studenti gli sbocchi di quello che sarà l'agricoltura del futuro. Ovviamente abbiamo la collaborazione anche con gli istituti alberghieri in quanto dobbiamo fare in modo che vengano completate le filiere dell'agroalimentare che vadano di pari passo la filiera formativa con la filiera produttiva del territorio. Quindi è l'occasione per far sì che le scuole rispondano alle istanze del territorio. Il distritto biologico abbiamo accolto con piacere questo invito e segue un po' quelli che sono gli indirizzi della politica agricola comunitaria, cioè quella di avvicinare sempre più il territorio al mondo della produzione, e quindi di accorciare sempre più la filiera. Per fare questo, quindi per investire in una filiera biologica, c'è bisogno di conoscenze e informazione. Ecco, quindi credo che il connubio tra gli istituti tecnici e l'università, che poi sono il futuro possibile sbocco anche di queste figure, sia importante da questo punto di vista. Ed ora torniamo a parlare di ripartenze, perché nelle settimane di riapertura per le attività commerciali appartenenti al settore della ristorazione, alcune di queste si stanno preparando per poter raccogliere i clienti all'interno dei locali, installando nuovi sistemi di sanificazione, come ci racconta il titolare di Astra Caffè Pesaro. Noi, come sicurezza al Barastra, abbiamo pensato di fare del Covid-free, come con dei pannelli a vasi infrarossi e ultravioletti, per tutelarsi, perché secondo noi è meglio prevenire che curarlo il virus. Quindi con questi sistemi pensiamo di, saggiamente, di prevenirlo. Questi strumenti sono sistema quadro, come abbiamo già visto, oppure uso termosifone, uso mobiletto, sia infrarossi che ultravioletti. Quindi verrà messo uno alla sala del bar e tre qui dentro, nella sala che è più chiusa. Solo con l'esterno non riusciamo a sopravvivere. Quindi dobbiamo ospitare i clienti come una volta all'interno, però farli stare al sicuro. Fermo ristando che i protocolli sono stati studiati da persone che fanno questo di professione, perciò sono giusti e vanno rispettati. Noi vogliamo aggiungere qualcosa in più, che è la sanificazione degli ambienti usando i raggi ultravioletti, ma soprattutto infrarossi lontani, che gli ultravioletti non si possono usare all'interno, che hanno la possibilità per la natura di sterminare, proprio sterminare la parola, di tagliare in due virus e batteri. Di conseguenza chi entra in un ambiente protetto da questi pannelli praticamente è exempt free, exempt Covid. Non può prendere infiammazioni o infezioni. Questo permetterà al Barastra di far consumare i suoi prodotti alla gente in tranquillità assoluta, usando le mascherine quando vanno usate e togliendo le mascherine quando vanno tolte. È un'aggiunta che si fa. In estate è un po' meno importante perché già ci pensa la natura. Noi siamo più perpendicolari al sole, allora praticamente l'infrarosso ha più potenza, più potenza perciò diventa più aggressivo e distrugge maggior quantità di virus nella stessa quantità di tempo. E allora davvero complimenti a questa attività, adesso però andiamo a vedere qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV. Partiamo alle ore 21.15 con una nuova puntata della Nutrizionista a chilometro zero. Subito dopo alle 21.30 ci sarà una sintesi di quelli che sono stati alcuni concerti che sono avvenuti in alcune zone della città di Pesaro durante l'open day del Conservatorio. Quindi non perdetevi questo bellissimo appuntamento. Mentre andiamo a domani, domani come di consueto torna la rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta alle 7.20 e ci sarà con voi Antonio Astuti. E se vi siete persi la seconda puntata di Qua la Zampa la potrete rivedere questa sera alle 23.15 ma anche domani alle 13.45. Vi consigliamo e vi ricordiamo anche di andare sulla nostra pagina Facebook Rossini TV e votare la foto che vi sembra più carina, più buffa perché alla fine di tutte le puntate potranno vincere una fornitura di cibo per animali. E vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione gratuitamente Rossini TV su Google Play oppure sull'App Store per essere sempre collegati con la vostra TV di riferimento. E con questo è tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna appunto domani alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Questo è il numero che potete utilizzare per le vostre segnalazioni andando e mandandoci foto e messaggi con la messaggistica di WhatsApp. Adesso il meteo. Buona serata.